Stop al trasporto per disabili ed anziani fino a venerdì. Una settimana di disagio, poi tutto dovrebbe tornare alla normalità. La nota, firmata dagli uffici comunali, settore educativo e socio-culturale ed inviata alla sindaca giaciria francese, conferma lo stop posticipando il ritorno alla normalità dalla prossima settimana. Continuerà quindi la temporanea impossibilità per chi soffrisce del servizio di poter salire a bordo dello scuola bus che in questi giorni viene sottoposto ad una serie di interventi manutentivi, ordinari e straordinari. Un mezzo, nonostante gli anni, che continua ad essere utilizzato per il giro anziani e disabili dei rioni al cimitero e per il trasporto disabili al centro città alla piattaforma PitBat3 nella litoranea di Battipaglia.